ah ma no Stefano maestro qualcun altro? ciao 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 ehi ci siamo ragazzi in performance guardate il Merona Blush ecco è qua ok perfetto ok ok il sacro il sacro perché i topi? perché quando chiude il parkour restiamo solo noi grazie 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 Aspetta perché adesso per volantino Ciao boss, ciao caro Signore e signori questa è la chiave del parco dei vostri sogni Vi auguriamo un buon divertimento e una buona permanenza e vi diamo il benvenuto a Venice Land Vai Vittoria guarda qui E adesso divertimento Un brindese Grazie 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 a tutti